Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi, bentrovati ancora in diretta dal festival, abbiamo strappato praticamente dal suo pranzo di oggi, è qui con noi Red Canzian, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Luca, che gioia arrivederci. Altrettanto ovviamente un piacere anche mio in questo Sanremo che, allora, leggevo da qualche parte dicevi, lo faccio per divertimento. Ma assolutamente, la musica deve essere soprattutto questo, perché molto spesso viene presa un po' troppo sul serio. La musica è una cosa seria e va rispettata, però allo stesso tempo noi non dobbiamo prenderci troppo sul serio, non facciamo operazioni a cuore aperto, per cui facciamo delle cose che devono, sì, far star bene la gente, ma insomma è giusto viversela serenamente. Io voglio vivermela così, il palcoscenico è casa mia, questo mestiere è quello che ho desiderato fare da quando ero bambino, per cui perché dovrei vivermela male? Me la voglio vivere bene, poi ho un pezzo veloce, allegro, che parla dell'unicità della vita di ognuno di noi, della fantastica avventura che è la vita, che dobbiamo rispettare, perché ognuno di noi ha questo suo unico canto col quale esprimere quello che gli succede, per cui sono in un'onda assolutamente positiva. Hai anticipato, ognuno ha il suo racconto, che è il brano che sentiamo questa sera sul palco e mi verrebbe da chiedere, insomma, nasce per il festival, era già una canzone che avevi con te, che hai portato? È una delle tredici canzoni dell'album, io ho cominciato a fare questo concept album, infatti dentro c'è e sarò per te testimona del tempo, dice la canzone in due o tre punti. Nell'ultimo brano, quello che ho scritto con Renato Zero, che è una suite di nove minuti, c'è ancora la parola testimona del tempo, perché è il titolo dell'album ed è un concept, cioè io voglio con questo disco raccontare chi sono, ma raccontare soprattutto la musica che ha attraversato la mia vita. Quando l'hanno sentito i miei collaboratori e anche i miei discografici hanno detto subito perché non vai a Sanremo con questo pezzo? Io li ho guardati così perché non ho mai pensato di andare a Sanremo e non ho mai pensato che questo fosse un pezzo da Sanremo, perché in realtà è tutt'altro che il solito classico pezzo da Sanremo che si pensa con le melodie aperte e quant'altro. È un pezzo veloce, un pezzo rock, un pezzo carico di energia, che però magari stupisce e piace proprio per questo. Per cui mi hanno detto portiamolo perché è una bella maniera di raccontare l'uscita del tuo disco, la partenza del tour. E a quel punto ho detto sì, perché Claudio nel frattempo stava facendo un festival bellissimo, ha portato le eliminazioni, ha tolto il fatto di cantare delle cover, ma anzi ha fatto i duetti con altre artisti che è bellissimo e poi soprattutto ha portato le canzoni a quattro minuti che per chi non fa questo mestiere sembra una stupidata. E invece? Ma 40 secondi in più ti permettono di raccontare tutto, capito? E tra l'altro hai citato il tour con Red Canziar quindi su Radio number one qui in diretta da Sanremo. Ricordiamo 4 maggio Gran Teatro Geox a Padova, 5 maggio Gran Teatro Morato a Brescia, il 7 maggio poi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, di Udine, poi 9 maggio Bergamo, il 12 maggio Teatro Colosseo a Torino, 13 maggio Teatro di Varese a Varese, poi via via Napoli, Firenze, Assisi, Roma, Catania, Palermo Bari per chiudere il 27 maggio al Teatro degli Arcimboldi. A Milano, sì. Ti sei scelto un viaggio bello intenso. È intenso, però sono 15 concerti spot nei quali voglio far capire che tipo di spettacolo sto preparando. Sto lavorando da due anni a questo concerto. È un concerto molto complicato. Musicalmente l'abbiamo già montato ai primi di dicembre e suona benissimo. Parte dagli inizi inizi, parte da tutti i frutti che io sentivo quando avevo sei anni cantato da Little Richard, passando per Love Me Tender, Yesterday, She Loves You, le canzoni dei grandi autori italiani, da Tenko a Paoli, Mi sono innamorato di Teatro in una stanza, poi passa alle canzoni della protesta degli anni, fine anni 60, quindi Blow in the Wind di Bob Dylan con le immagini delle bombe al Napalm in Vietnam e quant'altro. E il nostro Vietnam, il Brennero, cantato dai Pooh nel 66, quando tiravano giù i tralici con gli attentati di Namitardi e sono morti dei nostri finanzieri. Poi la grande festa, la grande gioia del Fate l'amore, non fate la guerra, californiano, quindi Mama's and Papas, California Dreaming e tutto questo mondo. È un racconto che faccio con le parole, con le immagini, perché sono due ore e mezza di film, di immagini dietro che girano per raccontare tutto e con la musica, per cui un lavoro immenso. Però quando sarà finito non è mai stato fatto innanzitutto, ma soprattutto sarà un grande telegiornale in musica che per chi come noi ha vissuto quell'epoca la rivive e se la gode. Per chi non l'ha vissuta è importante, perché gli facciamo vedere, ahimè, che cosa si sono persi, che anni meravigliosi sono stati quelli, che musica incredibile c'è stata e che cambiamento ha portato nella nostra vita. E allora bisogna dare appuntamento assolutamente dal 4 maggio in avanti a Red Canzian, dare appuntamento ovviamente da questa sera sul palco del Teatro Ariston. Ti chiedo un'ultima cosa, lo stiamo chiedendo a tutti perché stiamo lavorando a un progetto sull'arte. C'è un quadro, un pittore, un'opera d'arte, anche non solo di pittura, a cui sei particolarmente legato? Ma allora, ieri sera mi hanno chiesto il mio pezzo a che quadro, perché sanno che dipingo anch'io, a che quadro lo accoppierei. Siccome è così dirompente, così particolare, non è disperato come il quadro di cui ti sto per parlare, ma è dirompente, lo associerei all'urlo di Munch, che è questo quadro dirompente. Poi voglio dire, ogni canzone e ognuno di noi ha una maniera diversa di interpretare le emozioni, no? Una cosa che a me sembra romantica, magari a qualcun altro non arriva in questo modo, per cui non saprei, però direi che Munch va bene, è un bello scossone. E allora aspettiamo la scossa questa sera. Miki, grazie per averci ospitato qui oggi pomeriggio, grazie a Red Canzian in bocca al lupo per questo festival. Ciao Miki! Grazie a tutti!